Buongiorno a tutti, oggi è uno di quei video importanti, di quei video che mi emozionano nel momento in cui li faccio, ma soprattutto nel momento in cui li preparo e ripercorro la storia di una grande mesonna, non che avessi dimenticato, ma la cui emozione provata a ricercarla e a studiarla mi era passata di mente, non l'avevo più avvertita da tempo, quindi ecco in questo ho anche utilità nel fare questi video, perché riscopro emozioni, valori, situazioni che ho provato in passato e che poi ho dimenticato e oggi infatti parleremo della grandissima Movado, di tutta la storia lunga di questa casa, lunga e importante, e quindi non perdiamoci in altri convenevoli e passiamo subito ai fatti. Movado viene fondata nel 1881 a La Schottfond, che è nel giuro a Svizzero, è nel nord di Ginevra, molto a nord di Ginevra, ci vogliono circa un paio d'ore per arrivarci, ed è un po' da molti ritenuti la capitale dell'orologeria svizzera, proprio la Schottfond, il paesino di la Schottfond. Viene fondata da alcuni fratelli e all'inizio non si chiamava Movado, nel 1905 viene denominata Movado, il nome Movado è Esperanto e vuol dire sempre in movimento, non è inutile ricordare che l'Esperanto fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo era vista la lingua del futuro, la lingua internazionale per eccellenza perché non apparteneva a nessun popolo e quindi questo spinse la casa a chiamarsi Movado e anche a dare il nome in Esperanto di alcuni dei suoi orologi più famosi. Dunque, Movado si caratterizza subito come una vera e propria straordinaria manifattura, cioè loro studiano, progettano, assemblano, realizzano i calibri e lo fanno facendo opere di grande perizia. I calibri di Movado sono veramente molto belli, sono in genere rifiniti a mano, soprattutto quelli dei calibri complicati come i calendari, con angoli rientranti in abbondanza, sono robusti, sono affidabili, rifinitissimi, insomma sono orologi straordinari. Movado da subito è un costruttore di avanguardia, cioè loro cercano davvero l'innovazione, estetica e tecnica e devo dire quindi che ha un posto particolare nella mia storia, nel mio modo di vedere gli orologi che anche oggi ricerca molto l'innovazione e Movado è stata la casa dell'innovazione in quegli anni. Io vi ho già parlato in un video del Poliplan, un orologio straordinario prodotto per pochi anni, dal 1912 al 1916, un orologio Curvex, forse il primo vero ed estremo Curvex, sin tre Curvex, con una curvatura molto accentuata, consentita da un esclusivo calibro Movado, i cui rottismi e i componenti sono posti su tre piani diversi. Un calibro molto bello, un calibro ardito che poi non sarà mai più riproposto e un orologio da sogno. Vediamo subito una pubblicità che lo ricorda. Ecco, per chi volesse saperne di più rimando al mio video di qualche tempo fa sui calibri a più piani e non c'è solo ovviamente il Poliplan di Movado, ma il Poliplan di Movado è l'esempio più famoso e più importante, sicuramente il più ardito. Nel 1923 nasce il calibro 470 manuale, raffinatissimo. Guardate gli angoli rientranti che ha. Sarà prodotto fino all'inizio degli anni 60, è uno dei calibri più longevi, anche perché poi questa configurazione risaliva addirittura al 1909 come fondello, anche se aveva un altro nome. Guardate gli angoli rientranti e guardate anche i rubini che erano messi in castoni dorati. Quindi veramente un'altissima qualità e un'antissima longevità. Sarà poi su questa base che verrà costruito il 475 nel 38 per il calendografo, ma ne parleremo dopo. Resta come uno dei calibri più longevi, più rifiniti e più affascinanti della storia. Ma andiamo avanti. Nel 1926 una persona brevetta un innovativo orologio da tasca. Ricordiamo che già negli anni 20 progressivamente sempre più persone utilizzavano gli orologi da polso. Gli orologi da polso erano nati come orologi femminili di solito di forma. Poi con la prima guerra mondiale, con le necessità belli che si affermarono anche come orologi maschili e dagli anni 20 inizia la sostituzione presso il pubblico degli orologi da tasca con gli orologi da polso. Una sostituzione che andrà avanti inesorabile e si completerà in gran parte dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1926 viene appunto brevettata una cassa esclusiva. Abbiamo cioè, non da Movado viene brevettata, viene brevettata una cassa, un orologio da tasca, piccolo, di forma quadrata, dentro un guscio. Un guscio che si apre. Il guscio lo protegge quando è chiuso e poi si può aprire. È un orologio da tasca, da viaggio, piccolino, molto bello esteticamente. Questo brevetto fu portato all'attenzione di diverse case orologiaie che rifiutarono di produrlo perché ormai la moda era il loro orologio da polso. Ma ci fu una casa che accettò ed è Movado. Movado che così dal 1930 inizia a produrle l'ermetto. Questo orologio è assolutamente straordinario, è assegnato un'epoca, è stato considerato l'orologio da tasca definitivo, cioè l'ultimo, il più perfezionato orologio da tasca. Appunto, cassa quadrata rettangolare, inserito in un guscio protettivo in genere rivestito di pelle, all'inizio carica manuale tramite corona ora 12, molto presto assumerà invece una carica automatica del tutto innovativa, cioè con la carica che si apre aprendo e chiudendo il guscio. Vediamo subito alcune delle meravigliose immagini. Vediamo qui un bellissimo esemplare con calendario completo, veramente veramente stupendo a mio modo di vedere, anche per la disposizione e la bellezza del quadrante stesso. Già aveva la cassa che aprendosi e chiudendosi caricava l'orologio. Qui vediamo una pubblicità dell'epoca che già dice qualcosa del suo utilizzo. Qui vediamo un altro esemplare, solo tempo, della prima serie perché ancora la carica manuale a ore 12. Qui vediamo un'altra pubblicità dell'epoca e vediamo quindi lo stile con cui erano realizzati i gusci che molto dipendevano dall'art deco, come anche tutto l'orologio. Questo è un bellissimo esemplare con un quadrante bicolore, indici d'oro, numeri arabi d'oro, ripieni di radio, ahimè. È veramente un esemplare stupendo. Molti avevano la funzione di sveglia e quindi erano perfetti orologi da viaggio. Dicevo che questo straordinario orologio che fu prodotto per tanti anni e che fu un po' il simbolo della Movado tra le due guerre risentiva ovviamente nel disegno dell'art deco. Abbiamo questi gusci che sono rivestiti spesso in pelle, pelle anche di coccodrillo, le casse erano in argento d'oro, molto spesso avevano i modelli più venduti, avevano lo svegliarino, quindi erano perfetti orologi da viaggio, piccoli di dimensione, tascabili, diciamo così l'ultima vera espressione funzionale dell'orologio da tasca. Un piccolo capolavoro, una piccola meraviglia. Oggi non è facile trovare degli ermetto in buone condizioni, si trovano comunque ancora dei prezzi molto bassi anche se i prezzi si stanno giustamente alzando perché queste meraviglie non possono essere lasciate morire con quotazioni basse. E ora vediamo un altro capolavoro di Movado, parliamo cioè del calendograph, di quello cioè che è un calendario completo, nella versione originale montava, nella versione manuale montava il calibro 475 che era il calibro 470 che vi ho fatto vedere prima con in più un modulo calendario perché Movado fu la prima fabbrica che fece orologi modulari e quindi Movado abbinò quel bellissimo calibro base 470 a un modulo di calendario. Peraltro questi calendograph manuali fatti fra il 38 e il 54 sono orologi di altissima qualità, venivano fabbricati a mano, realmente a mano, cioè con utensili sì, ma in cui la mano dell'uomo aveva un ruolo erano rifiniti a mano, erano veramente orologi alto di gamma, venivano proposti con quadranti molto belli, con casse di diversi materiali ma anche di acciaio e le casse erano quelle di FB, cioè del più famoso cassaio svizzero tra le due guerre, casse di alta qualità e di design anche audace. Infatti il primo calendograph che vi faccio vedere è l'esemplare che possiedo io, che è un esemplare, vi dico subito, che ha una grandissima pecca, ha un quadrante ristampato ma è perfettamente funzionante, a me piace molto, lo porto ancora ma soprattutto valutatene lo stile assolutamente futuristico, le dimensioni ampie e lo stile futuristico per l'epoca. Questo è un orologio che risala la metà degli anni 40, guardate un po' che roba. Ecco qui potete vedere questa cassa che sembra veramente molto moderna, non solo nelle dimensioni ma anche proprio nel vetro, nell'abbinamento fra il vetro, ovviamente vetroplastica, con il disegno delle anse e del quadrante, cassa ovviamente FB e guardate anche la modernità di questo orologio, cioè anche la visione perfetta offerta dal quadrante periferico. Guardate un po' che qualità, una cassa così mi ricorda quella degli ultimi HIT Flow e HIT H0, certo non c'è liquido ma l'idea della visibilità anche laterale in una certa misura è tridimensionale già un po' quella. Un video che dimostra come ancora non sappia riprendere i miei orologi, questo è evidente perché in realtà io dovrei smettere di avere questa abitudine di tenere un orologio al polso mentre lo faccio vedere, dovrei toglierlo e metterlo fermo e farci tutte le macro possibili e immaginabili. Ci provo ora, vediamo cosa viene. Non un gran che meglio, ma forse qualcosina in più si riesce a vedere, si riesce a capire, insomma veramente su questo devo fare passi avanti enormi. Questo invece è un esemplare preso dalla rete col quadrante originale non ristampato, bellissimo, più piccolo, più tipico, quadrante bicolore, qui abbiamo un altro esempio di quadrante bitono con una cassa sempre degli stessi anni, sempre molto piccolo di dimensioni, ancora un'immagine del suo calibro 475 visto dal e ora veniamo a un altro esemplare assolutamente storico sul piano tecnico stavolta, cioè il cronografo M95. Per la prima volta Movado realizza un cronografo modulare, ma attenzione non ha niente a che vedere con i moduli della Dubois de Brats di oggi in lamierino economici posti sotto il quadrante e messi aggiunti a un movimento base. Certo, qui c'era un movimento base, fu aggiunto un modulo, ma il modulo era un modulo posteriore ed è il primo modulo cronografico della storia con ruota a colonne con il nesto laterale, molto bello anche da vedersi sul lato fondello. Questo modulo tratto fu realizzato in collaborazione con Frédéric Piguet, la fabbrica di movimenti che poi ha così importanza ancora oggi. Diciamo che è stata un po' il contraltare di ETA per l'alto di gamma, cioè movimenti venduti a terzi ma di alto livello. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Ecco una versione con quadrante panda, ma vedete che esteticamente non aveva novità rispetto ai cronografi degli anni 40-50 di altre case. Questa è una versione un po' più tradizionale, ma insomma di novità sul piano estetico in questo caso non ce ne sono. Le casse sono le solite FB. Ecco, vediamo invece il retro del calibro. Guardate, pur essendo modulare, veramente non sfigura rispetto agli altri manuali dell'epoca. E guardate anche la qualità, lo spessore delle leve. Si indovina anche la finitura assolutamente accurata come da tradizione. Dopo aver introdotto per la prima volta i moduli negli olologi calendari completi, introduce anche il modulo per un cronografo ed è una prima. Naturalmente la seconda prova di questo sarà molti decenni dopo, quando Buren, Hamilton, Oyer e Breitling formarono il consorzio per il primo cronografo automatico che nel 69 poi presentarono appunto questo calibro 11 che aveva un modulo, sì, ma fatto da Dubois de Prats, il primo fatto da Dubois de Prats, molto economico, montato sotto, ma anzi era montato anche quello posteriormente, tra l'altro nascondeva il microrotore del calibro base Buren, ma era veramente brutto ed economico di aspetto e poi i modulari hanno una lunga storia, non solo nei cronografi fino ad oggi, ma portata avanti soprattutto da Dubois de Prats, anche meritoriamente, perché alcuni dei moduli, non dico per i cronografi, ma per le complicazioni più importanti, sono dei veri gioielli di ingegneria, anche se io continuo a preferire i calibri integrati, ma questo è un altro discorso. Il momento è ora di parlare di un altro capolavoro di Movado, stavolta estetico, si tratta cioè del Museum, un orologio che produce persino ancora oggi la Movado appunto di oggi, che non ha più nulla a che vedere ovviamente con quella di un tempo, ma pochi sanno che il Museum ha una storia antica che è dentro la storia di Movado della Movado storica, perché è nel 1947 che Horwit disegna il quadrante del Movado. Sarà brevettato nel 1958, nel 1961 Movado ne acquisisce i diritti e lo inizia a produrre in serie, quindi non è certo un'invenzione della Movado dei nostri giorni. Dal 61, dal 60 non mi ricordo più, è esposto questo quadrante al MoMA, il Museo of Modern Art di New York, il celebrimo MoMA. Guardiamo insieme questo orologio. Credo proprio non ci sia bisogno di spiegare perché questo quadrante ha inciso così tanto nella storia del design delle orologerie perché è finito addirittura nel Museo dell'Arte Contemporanea per eccellenza. Direi che le immagini parlano da sole. Ovviamente c'è anche dello stile Bauhaus in questo orologio, in un'epoca diversa, più avanzata, quindi in una declinazione se vuoi più moderna. Ora, negli anni 60 Movado e il marchio sub-brand Mondia, che già esisteva ed era stato creato da Movado, decidono di fondersi con Zenit, anzi Zenit che si fonde con Movado. Sta di fatto che Zenit e Movado fanno un gruppo unico. Infatti tutti noi ricordiamo nei primi anni 70 dei Zenit al Primero marchiati Movado con casse tipiche appunto della Zenit degli anni 70. Diciamo quindi che la grande Movado trova fine già negli anni 60 con questa aggregazione con Zenit. Purtroppo poi le cose andranno ancora molto peggio perché poi Zenit e Movado entrano in crisi con la crisi del quarzo. Negli anni 70, all'inizio degli anni 70, 71 mi pare, Movado e Zenit vengono acquisite entrambe da un gruppo americano che si chiama Zenit Corporation Radio, quindi omonima della Zenit di Le Locre dell'orologeria, ma che fa radio. Questa azienda non crederà negli orologi meccanici, da qui tutta la storia per cui imporrà a un certo punto di vendere, di svendere tutte le giacenze meccaniche e anche tutte le presse, gli stampi con cui si facevano i componenti dell'El Primero. Ricorderemo poi la storia di Charles Vermont, quell'orologialio coraggioso di Zenit, che disobbedì e arrivò a nascondere tutto in una specie di soffitta murata, che poi fu smurata soltanto quando tornarono in inauge gli orologi meccanici e soprattutto quando prima Hebel e poi Rolex decisero di montare l'El Primero e quindi riprese la produzione dell'El Primero, ma qui siamo già negli anni 80 avanzati. Quindi torniamo indietro, Zenit Radio compra Zenit Movado e quindi Mondia, nel 78 per fortuna Zenit Radio vende Zenit Movado, che quindi tornano ad essere di proprietà svizzere, siamo ancora però nel pieno della crisi del quarzo e nell'83 Movado si separa, cioè viene separata dalla Zenit perché viene venduta a un'azienda americana e poi la storia è storia fino ai giorni nostri. Bene, io anche in questo caso, finito questo video, sono un po' depresso perché ho la sensazione di non essere riuscito a trasmettermi l'emozione per una casa come Movado che cercava innovazione tecnica ed estetica sin dalla sua fondazione e che ha fatto degli orologi storici, ha fatto dei calibri, tantissimi calibri, ha innovato la tecnica orologera, ha fatto calibri modulari molto belli, ha fatti calibri non modulari altrettanto belli, ha fatto orologi straordinari in cui nulla era sacrificato in termini qualitativi. Il Movado la possiamo assolutamente paragonare per livello tecnico e di finiture a Vacheron Constantin, Patek Philippe per certi aspetti, anche se queste ultime con un tocco di lusso in più ovviamente, ma tecnicamente non era certo inferiore, diciamo era allo stesso livello di Rolex, di Gégé Lecoutre, insomma è stata veramente una gran casa e ecco diciamo che esemplifica quella che era la vera orologeria vintage e storica, cioè non un'orologeria come dicono tanti vintagisti ignoranti di oggi, cioè un'orologeria ferma, in un canone quello dell'età d'oro che non innovava, no no era un'orologia di ricerca che innovava e che purtroppo è finita con la crisi degli anni 60 e soprattutto 70 e non è mai più ripresa così purtroppo, se non ad opera di qualche piccolo indipendente, ma questa è tutt'altra storia con i suoi pro e soprattutto i suoi grandi contro. Ecco, con questo anche per oggi ho finito, spero di avervi trasmesso qualche emersione e soprattutto la voglia di andare a ricercare i calibri, le decine di calibri perché ci sono calibri di forma, sono tutti anche molto belli esteticamente i calibri Movado e spero di aver almeno incuriosito qualcuno a cercare di più su questa straordinaria casa e di non aver deluso chi conosce già Movado, so che molti tra coloro che guardano i miei video, io ho la fortuna di avere un pubblico colto, conoscono già Movado. Grazie ancora e al prossimo video.